Sono jamaicana, africana, sono nata a milana, sono napulitana Questo è l'anno più importante per Afronato, perché oltre a fare il campionato solito ACS che dobbiamo a tutti i costi vincere, facciamo un passo ancora più importante che è quello di iscriverci alla FIGC, partire dalla terza categoria perché da là si può partire, quella più bassa, ma noi abbiamo un obiettivo che in tre anni dobbiamo stare in promozione. Sì, 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 sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo i 90 minuti. 1, 2, 3... Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Bravo, bravo, manda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.